E insomma, buonasera, sono Filippo Borghi, mi sono natore, ho studiato a Udine per fare l'attore all'Accademia Nico Pepe, questo è proprio un bel momento, sono per te, ecco. Un po' dopo tre anni a Udine sono studiato da Trieste per fare l'attore sempre nella compagnia stabile, che però stabile, la mia trova stabile, perché che era da fare la tournette, bellissima, mi sono divertito anche lì, dopo però 16 anni mi sono stufato perché avrei sapere dietro al lavoro, tipo scrivere, e allora è da stare un po' ferro per scrivere, non può andare da qua, da là, insomma. E allora sono tornato a San Tilerio, a San Tilerio è un paese, un bel paese, beh, è normale, insomma, non è trascendente, però se sta bene, la gente è buona, è niente, sono chi che fa un po' a mese a mese, un po' l'attore, un po' a scrivere, può anche dietro al lavoro per far quadrare un po', no? Però va bene, va bene, sono contento, alla fine, guarda, va bene, mia mese, ecco, mia mese. E San Tilerio è un paese trarese per ferma, appena qua da l'ensa, qua dalla parte dres, e va bene, è buono, buona sera, ad nuovo, e arrivederci.